E' stato Don Pietro De Ponzio responsabile della struttura ad accogliere insieme a volontari e assistiti il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale nella casa di Zaccheo di Mesagni e luogo di prima accoglienza, ospitalità, ascolto e mensa per i più bisognosi. Il sacerdote ha illustrato le attività realizzate, opere di assistenza e supporto. Nell'occasione sono state ascoltate anche le voci di alcuni volontari che hanno descritto altri progetti realizzati sul territorio con l'aiuto dei fondi dell'Otto per Mille alla Chiesa Cattolica e grazie agli interventi di Papa Francesco tramite l'Elemosineria Apostolica e il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. L'incontro è terminato con la consegna di alcuni doni che Don Pietro ha offerto insieme ai volontari.